Cosa pensa di questo Papa? Mi piace, mi dà serenità perlomeno, cerca di trovare un po' il marcio dov'è, ce lo fa sapere. È un dono di Dio che speriamo che riesca a fare tutto quello che hai in mente di fare perché sarà un bene per la Chiesa. Secondo lei cosa ha la fede? La fede è una gran cosa, chi ce l'ha è fortunato. La fede è una cosa che si deve vivere giorno per giorno scoprendola in tutte le cose che ci capitano.